Grazie per la presenza, un ennesimo appuntamento del Caffè degli Alpini, come sempre diciamo i nostri appuntamenti nascono inizialmente per parlare degli alpini o comunque per metterci in evidenza nella nostra città, nel senso che tutto quello che noi cerchiamo di fare fa parte un po' del nostro vivere associativo, però all'interno di questi appuntamenti cerchiamo sempre di creare anche delle opportunità che non parlano esclusivamente degli alpini, per cui questa sera abbiamo il piacere di avere con noi un grandissimo amico Sergio che da tanti anni ci frequenta, ci dà una mano in certe situazioni sportive all'interno del nostro gruppo e ci permettiamo di ascoltare cosa lui ha scritto e cosa lui avrà da raccontarci in merito a questa pubblicazione. Lascerei la parola a Roberto che è colui che terrà le figlie di questa serata e vi ringrazio della numerosa presenza. Buona serata a tutti. Grazie. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi. Siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli. La storia non passa la mano. erano tanti anni che avevo in mente di fare una pubblicazione sulle tre valli valetine. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. La prima domanda è ovviamente non economica, ma quanto costa fare un libro così? Buonasera a tutti. Costa molto impegno, costa molta passione che ho condiviso con l'amico Luigi Cazzola, che è qui in prima fila. Ero un po' arrabbiato con lui, perché alla fine degli anni Ottanta, quando scrivevano, io scrivevo sul giornale Lucio, poi lui mi ha portato via al posto. Dopo ci siamo riappacificati. E allora ho coinvolto anche lui. Lui ha curato gli anni Ottanta, che era una serie di annate che gli piacevano particolarmente seguire. E tornando alla tua domanda, Roby, costa molto, costa molto, ecco. Se non hai, non devi, naturalmente, come si fanno, come gli alpini quando organizzano la festa nella montagna. Non guardano quante ore passano, non guardano se si arrabbiano, non guardano se non dormono di notte, non guardano, si fanno scivolare addosso tutto. Noi ci siamo fatti scivolare addosso tutto, abbiamo passato le giornate in biblioteca, siamo andati a casa della gente a cercare le fotografie, perché volevamo mettere delle fotografie originali, degli anni, naturalmente, di un tempo, che non è neanche stato facile a recuperare, perché sono passati talmente tanti anni che un po', quando ci si tramanda da padre in figlio, non tutti hanno le stesse passioni. Però alla fine siamo rimasti soddisfatti, no? Siamo rimasti soddisfatti del prodotto che è uscito e anche del riscontro che stiamo avendo. Arrivando qui questa sera mi è venuto in mente, io la prima volta che sono venuto qua era il 2016, non sono un alpino, e mi ero stato colpito dal fatto che c'era la dunata motociclistica, no? Allora ero venuto a chiedere, ma perché non facciamo qualcosa anche per le biciclette? E da allora è nata la cicloscalata che quest'anno mi sembra che è il nono anno, l'abbiamo fatta anche quando c'era il covid, no? Per dire. Ecco, quindi mi è venuto in mente questo particolare, poi non sono un assiduo frequentatore perché sono impegnato in tante altre cose, però naturalmente seguo quello che è la vostra attività. Possiamo iniziare con un filmato. Ok, vai. Ciao. 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 Fausto, Gino, e il vostro cuore insegnerà, ma il discorterà. Fausto, Gino, Fausto e Gino. Allora, questa è la Trevalli del 1953. La particolarità qual è? Che quella sera, che era esattamente, vado a vedere perché era l'11 ottobre, l'11 ottobre del 1953, andò in onda la prima edizione della Domenica Sportiva, sperimentale, perché la RAI poi iniziò a trasmettere nel 1954. E la Trevalli-Varesine, con questo filmato senza audio, nel senso con la musica, senza commento, è stata la prima gara ciclistica in assoluta che è stata trasmessa dalla RAI. Ecco, questa è una particolarità di questa manifestazione. Abbiamo recuperato questo filmato, lo facciamo sempre vedere così con particolare piacere, perché la Trevalli ha anche questo record. Mi fai tu le domande o parlo io? Se mi vengono te le faccio. Poi io aprirei anche al pubblico, è quello che è spontaneo. Sono solo 25 euro per fare la domanda. Eh beh sì. Dalle prime gare, quando c'erano i vari organizzatori, abbiamo, grazie a te, ho ascoltato tante storie o leggende poi sul discorso del mondiale del 51 e tutte queste cose qua. Quello che spicca rispetto ad oggi e ai tempi moderni, dalle prime edizioni, ma neanche troppo prime, dalle tante edizioni, è il discorso del nome della corsa, no? Le Trevalli Varesine. E tutti ovviamente si immaginano che questa corsa debba per forza svolgersi nelle Trevalli Varesine. Poi ovviamente il tempo è cambiato, il ciclismo è cambiato e qualcosa è cambiato, anzi molto. La domanda che mi viene fatta sempre quando facciamo queste presentazioni è quali sono le Trevalli Varesine? Allora, sono la Val Ceresio, la Val Cuvia, la Val Ganna e la Val Marchirolo. Ecco, erano queste le Trevalli Varesine indicate dagli organizzatori della prima edizione. Poi probabilmente il nome non suonava molto bene, Quattro Trevalli. Quattro, allora hanno detto tre. E hanno pensato di unificare la Val Ganna e la Val Marchirolo in una valle unica. Infatti nella prima edizione, quella del 22 di giugno 1919, gli organizzatori che non erano gli attuali, non era la società ciclistica Alfredo Binda, ma era il club sportivo Varesino, si erano posti questo problema. Queste quattro valli e poi le riduciamo a tre e così è nato il circuito delle Trevalli Varesine. E per la prima edizione mi sono rivisto, perché io organizzo anche qualche manifestazione in Italia, mi sono rivisto un po' negli organizzatori perché non avevano soldi per organizzare. E dopo con qualche scamotaggio sono riusciti a... Non avevano soldi ma i Montepremi erano degni di nota. Esatto, perché la cronaca pre-alpina allora pubblicò un articolo, naturalmente allora era l'unico mezzo di informazione, e riuscirono a trovare dei soldi per poi far partire i poco più di 20 partecipanti della prima edizione sui 90 chilometri del tracciato. Arrivano in 14, poi 4 li hanno eliminati perché siano attaccati, siano fatti spingere, ne hanno classificati 10. La Trevalli Varesine nasce così. Infatti quest'anno, il 22 giugno, ci sarà un corridore, chiamiamolo eroico, quelli che vanno in giro vestiti in modo un po' particolare, con una bicicletta dell'epoca che rifarà il percorso originale di quella Trevalli Varesine, così in onore di quella prima edizione del 22 giugno. Cosa ci è piaciuto fare in questo volume? Innanzitutto andare a ricercare quella che era stata la cronaca della corsa, secondariamente il percorso, perché il percorso dei Trevalli è variato molte volte, molte volte negli anni, e poi gli ordini d'arrivo, che sembrano una banalità, ma Luigi lo sa, andare a trovare i primi 20 dell'ordine d'arrivo, come abbiamo messo, non è stato facile. La riprovo qual è? Se voi prendete questo, che ormai abbiamo tutti, e uno dice Trevalli Varesine in 1952, ad esempio, ci saranno i primi 10, e poi ha scritto, ha vinto Verdelli, secondo Boff, e Giannoli ha forato a tre chilometri d'arrivo, tre righe. Quindi noi abbiamo voluto fare qualcosa che uno non trovasse qua, non trovasse su internet, qualcosa di particolare. E devo dire che in queste presentazioni che abbiamo fatto è stato molto apprezzato, adesso ce la tiriamo un po', però è stato quello. E come è stato estrapolato nel filmato di Roby, io mi sono stupito quando sono andato a iniziare a fare le ricerche. È possibile che nessuno, dopo 25 anni, dopo 50 anni, abbia fatto una pubblicazione su questa corsa, che è il punto di riferimento del ciclismo in provincia di Varese. Probabilmente non c'era questa passione. Poi mi sono accorto perché, perché era molto difficoltoso trovare tutte le notizie. Però, diciamo, è stato uno stimolo in più per noi, per la Sunrise Media e anche per Luigi, per andare a cercare notizie. Fino a quando si è potuto abbiamo fatto delle interviste ancora a coloro che hanno vinto la gara. Qualcuna ce la siamo inventata, no? No, ah no, 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 no. E così. Comunque, la Trevalli, negli anni, prima era considerata un puro evento sportivo. Possiamo vedere, magari, qualche immagine. C'è quella del 29, che c'era la partenza proprio qua sotto, no? Questa è Piazza Repubblica, no? Questa era la Trevalli nel 1929. All'inizio, all'inizio era un puro evento sportivo. Poi, nel passare degli anni, c'è stata un'evoluzione. C'è stata l'evoluzione negli anni 70, quando è stata appoggiata da numerosi industriali della nostra provincia. Quindi è partita Brunello perché c'era la Mano Monier piuttosto che la CBM. È partita da Gemogno perché c'era la Curtiriso. Naturalmente Comerio e Cassinetta. Per la Ignis. E poi, negli ultimi anni, invece, come usa dire l'attuale presidente della Binda, è diventata una promozione del territorio. Nel senso che, se prima la Trevalli era legata all'evento sportivo, quindi ci ricordiamo le vittorie di Coppi, di Bartali, di Mers e quant'altro, adesso è diventata una manifestazione che dà risalto al territorio della provincia di Varese e il vincitore quasi passa in secondo piano. Perché magari, io a volte non mi ricordo neanche chi ha vinto l'anno scorso. Chi ha vinto? Ah, che presidente. Chi ha vinto l'anno scorso? Cioè, vedete, se avesse vinto Pogaciar, uno dice magari, adesso Pogaciar viene richiamato. E ci ha vinto un bravo ragazzo, come si chiama? Chi è che ha vinto l'anno scorso? L'anno scorso? Ma il Vainant. Eh? Ma chi non conosce il Vainant? L'ha visto lo vincitore. No! No, l'austaliano. Eh sì. Ma no, era un genovese. Ecco, ha vinto questo, questo ragazzo. Allora, sembrava una barzelletta. Allora, c'è uno svisso, un australiano e un belga. Ecco, vedi, questa è la dimostrazione che la Trevalli, l'anno scorso, tra la gara femminile e la gara maschile, ha avuto sei ore di diretta televisiva, no? Quindi viene ricordata per questo, no? E si ricorda il nostro territorio e il vincitore passa un po' in secondo piano. Una volta invece, se non avesse vinto Merse, la corsa era un po' così, di seconda fascia. Quello che, un'altra cosa che ci ha colpito, no, nell'andare a chiedere le notizie è che invece tutti sanno cos'era Trevalli Varesini. Nel senso, non bisogna andare a spiegare. Adesso voi magari siete tutti appassionati del ciclismo. Magari anche gli alpini non lo sono tutti appassionati, se però chiediamo al signore a Trevalli, eh sì, lo sanno, no? Mi ricordo quando sono andato a fare la grigliata sul brinzio, piuttosto mi ricordo che sono stato fermo due ore a Bobbiate perché c'era la corsa. Però è identificata, no? Fa parte del tessuto sociale di Varese, fa parte della tradizione. Questo secondo me è una cosa importante. Poi intanto scorrono un po' di fotogrammi dell'epoca. Ad esempio questa, no? Quello chi è? È Bartali, no? Si vede chiaramente, no? Vedete che ha la gamba destra fuori, perché non ha il pedale. Lui andò in fuga sul sasso di Gavriate, stocco tutti. Poi prima di arrivare in pista Varese gli si ruppe il pedale, no? E quasi loro, e quasi veniva raggiunto, no? Ecco, anche queste sono particolarità che anch'io non sapevo. Perché se uno va a leggere l'ordine d'arrivo, primo Bartali, secondo Canavesi, terzo, eh? Quello che è. E a noi appassionati di ciclismo fa piacere, fa piacere queste cose. Quando siamo stati al Ghisallo, ad esempio, a fare la presentazione, sono rimasti perché nell'edizione del 1973, a seguito alle tre valli, c'era il monumento su un camio, no? Che girava. Che poi è stato messo qualche giorno dopo al Ghisallo, no? Quindi sono rimasti colpiti da questo. Questa è l'edizione del 62, chi ha vinto? Fezzardi. Qual è di questi? Prima sinistra. Ah, ah, questo. Questo, ecco, ad esempio, no? Fezzardi rimase staccato venendo da Brinzio, no? Poi rientrò e sulla pista di Varese riuscì a vincere, no? Ecco, ogni edizione ha un qualcosa di particolare. Ecco, questo, naturalmente. Contestatore. Questo è. Mersa arrivò la sera prima, qui in provincia di Varese, il gruppo sportivo Faema alloggiava all'hotel Frati di Gavirate, perché alcuni, la Faema è un marchio delle persone che allora abitavano a Gavirate. E arrivò alle 4, 4 e mezza del pomeriggio, il suo direttore sportivo era Marino Vigna. Gli disse, ma io ho bisogno di fare una sgambata, no? E allora, via, hanno preso e sono andati fino al Campo dei Fiori. E quando è arrivato, sì, ma ha detto, ma la salita dove inizia? Non ha detto proprio così, però ha detto, si aspettava una salita diversa, no? E poi sono tornati indietro che ormai era buio, no? Questa è quella del 52 a Luino. E qui, ad esempio, nel 52, la prima edizione che arrivò a Luino, era perché in quell'anno il comune di Varese non diede la possibilità, la benda di organizzare l'arrivo in Viale Ippodromo perché c'erano le gare dei cavalli. Poi nel 1930, invece, ecco, qui c'è la vittoria di Binda che, quelli che massicano il ciclismo, non è il Binda che conosciamo, ma suo fratello, Albino Binda, no? Perché Alfredo Binda non vinse mai la Tre Valle Ippresine. Gli organizzatori qui, secondo il mio punto di vista, sbagliarono un po', giusto, Robi, nella data di effettuazione, perché organizzarono la gara il giorno dopo il campionato del mondo. Quindi a sabato c'era il campionato del mondo che si corse a Lievi e vinse il Binda che conosciamo tutti, Alfredo. E il giorno dopo, il giorno prima, a Liegi vinse. Il giorno dopo c'era la Tre Valle Ippresine, partirono il 17-18 e vinse Albino Binda, però, no? Poi c'era anche un'edizione a... Io adesso vado un po' a ruota libera, dopo magari se mi fate qualche domanda. C'è anche un'edizione a cronometro individuale che si svolse sulla distanza di 110 km, una cosa che mi fa male le gambe solo a pensare. E quell'anno gli organizzatori, in questo caso della società ciclistica Alfredo Binda, perché dal 1929, quando fu fondata la società ciclistica Alfredo Binda, naturalmente organizzò la gara. E quell'anno gli organizzatori per... e hanno fatto un grande errore, secondo me, perché quando hanno... era il momento di decidere il percorso, sempre sulla cronometro per l'alpina, chiesero agli appassionati che percorso... Ciao! Alla fine, presero in considerazione l'idea di una signora che disse di fare il percorso che tutti chiamiamo dei mondiali, ovvero Ippodromo, Sant'Ambrogio... No, i mondiali del 51, quando eravamo là io. Al contrario, no? Al contrario, e fecero quattro giri, quindi sono 25 km per giro, 100 km, vinse coppie, ma in quell'edizione partirono in 12, ma c'era la gente così. se vuoi vedere le fotografie, ecco, un'altra cosa è la gente, è la gente. Invece nell'edizione del... Che edizione è quella? Del 1931, mi sembra, che ero là, sì, è qua. Ecco, questa edizione del 31, se quello che ha scritto qui non ha scritto delle cose inesatte, si svolse sulla distanza di 303 km. due sono andati a Lodi e sono tornati a Brescia. Un dicio ore. Un dicio ore. Un dicio ore. Un dicio ore di gare. Su strade sterrate. Su strade sterrate. E quindi, nel, diciamo, nella storia delle Trevalli-Varesine, c'è molto, c'è molto, tante cose che, ripeto, anche io che seguo abbastanza il ciclismo, non sapevo. Sono dovuto andare a documentarmi e vedo che mi vuoi fare una domanda. Bravo. Stavo dicendo, stavo pensando, sbaglio se dico che la politica ha fatto tanti danni, però, vuoi per interesse, vuoi per tornare conto, vuoi per immagine, vuoi per qualsiasi altra cosa, se la Trevalli non è più stata l'evento di un giorno, forse... Non ho capito bene. Stavo dicendo che... Stavo dicendo. Forse la politica ha dato un impulso agli organizzatori a far sì che diventasse l'evento di più momenti. Ad esempio, mi viene in mente la presentazione a Villare Calcati, come prima la presentazione a Campione. Cioè, andando avanti, si è adeguata ai tempi ed è diventata una presentazione un po' più importante, insomma, per dar visibilità. C'è da dire che fino a un certo punto la Trevalli ha vissuto di luce propria, nel senso che la maggior parte dei finanziamenti della corsa provenivano dai privati, come dicevo prima. Una volta è partita anche da Via Leborri, dove c'è la sede della... Prealpi, no? Prealpi. Prealpi. Sono caduti tutti e che c'era giù il buro per terra, un disastro. Ecco, e quant'altro. Più si è andato avanti con gli anni, più è subentrata la parte politica, sia a livello di finanziamenti, sia a livello di riscontri, no? Perché se si arrivano poi in determinati sedi a fare... Adesso viene presentata la Grattacero Pirelli a Milano, in questo contesto del trittico Lombardo, no? Dove la... Trevalli Varesine fa da capofila, no? Perché la società ciclistica Alfredo Binda ha anche questa... questa particolarità di tirare un po' il gruppo delle altre due gare che sono la Coppa Agostonio-Lissone e la Coppa Bernocchia-Legnano del trittico regione Lombardia. Negli anni poi il finanziamento pubblico dalle Camere di Commercio ai vari comuni e quant'altro è diventato prioritario rispetto a quello rispetto a quello privato. Perché adesso lo so, c'è qualcuno della Binda, no? O non mi può smentire. Una corsa, una Trevalli Varesina adesso penso che costi attorno ai 200 mila euro così a grandi linee che secondo me è una follia qui lo dico e qui lo nego perché sono 5 euro di corsa. Però se si trovano i finanziamenti fanno bene a portare avanti questo tipo di discorso e penso che oltre la metà adesso arrivi dai finanziamenti pubblici anche perché se vedete poi sul libro che naturalmente voi tutti acquisterete dopo e no, non ridemi se no no se vedete ci sono state molte variazioni delle sedi soprattutto di partenza negli ultimi anni adesso è stato privilegiato Varese come sede di arrivo perché capoluogo di provincia c'è un certo riscontro soprattutto dal punto di vista dell'immagine però perché si parte da busto perché si è partiti da campione d'Italia piuttosto che una volta da Borgomanero per dire ecco tutto per questo tipo di discorso di discorso economico che gli organizzatori fa comodo per poter sopportare questo tipo di discorso abbastanza forte perché più si va avanti più aumentano i costi ogni corridore che parte da Trevalli è ingaggiato o meglio è ingaggiata la squadra e di conseguenza tutti i corridori e quindi i costi li evitano negli ultimi anni poi il valore anche dei partecipanti la qualità è aumentata quindi ci sono più per dirlo in soldoni ci sono più squadre di serie A che partecipano piuttosto che quelle di serie B quelle di serie C ormai non ci sono più una volta c'erano anche quelle quindi di conseguenza aumenta il valore delle squadre aumenta il costo e c'è una classifica c'è una classifica mondiale che io prendo un po' con le pinze che colloca la Trevalli varesini come qualità di partecipazione come organizzazione come comunicazione e quant'altro al nono posto nelle gare di tutto il mondo l'anno scorso la Binda lo dice con morto orgoglio poi io non sono andato a vedere nel dettaglio i parametri però se devo vedere la qualità della partecipazione negli ultimi anni è stata ottima anche perché ormai una gara come questa è stata spostata in un contesto di un calendario internazionale assieme ad altre gare perché non potrebbe più andare da sola uno dice perché non si fa la Trevalli una domenica di settembre o una domenica di agosto come spesso si legge sui giornali perché è martedì e ci bloccate tutto è capibile la cosa però andando a vedere a monte perché è perché è inserito in un contesto di altre manifestazioni dove due giorni prima corrono a Bologna il giorno dopo corrono a Legnano e sono qui quindi si contengono un po' le spese è vicino al giro di Lombardia quindi a qualche corridore fa comodo anche correre la Trevalli non dico in preparazione però per fare invece di un buon allenamento una corsa al martedì quindi in previsione del sabato che c'è questa grossa manifestazione e quindi collocandola lì gli organizzatori della società ciclisti Alfredo Binda sono riusciti a salvare la loro corsa perché se fosse rimasta al mese di agosto era insostenibile perché le grosse squadre o i grossi campioni difficilmente sarebbero venuti per fare la gara di un giorno solo invece così in un contesto di tre o quattro giorni stanno nello stesso albergo per qualche giorno e via dicendo e allora è stato possibile fare questo tipo di discorso merito la società ciclistica Alfredo Binda che lavora come voi lavorate tutto l'anno per la per la vostra festa loro lavorano tutto l'anno per la Trevalli-Varesine perché non si può perdere altro tempo sia per il discorso reperire i fondi per un discorso economico sia anche per i contatti con le squadre e tutto quanto è un lavoro sempre più complicato negli anni però c'è da rendere merito a questi organizzatori che non lo fanno di professione perché non sono non sono gli organizzatori del Giro d'Italia o del Giro di Lombardia o delle Strade Bianche o del Giro di Piemonte che sono l'organizzatore di professione sono chiamiamo volontari gente però molto competente molto competente che riesce a a fornire un ottimo prodotto dal punto di vista ciclistico e di promozione del territorio come si usa adesso come si usa adesso dire in tutta la ricerca ascoltando anche quei pochi che insomma possono dire anche andando indietro negli anni dei primi anni penso che avrei trovato tanti aneddoti particolari te lo dico perché quando abbiamo fatto la trasmissione che accompagnava il mondiale del 2008 di ciclismo avevamo ascoltato delle cose che sembravano fuori dal mondo da Kubler ad altri che raccontavano che erano arrivati a Varese il pomeriggio avevano trovato ospitalità da una signora tutte queste cose qua avevano mangiato bene alla sera tutte queste robe che oggi ovviamente è impensabile però siccome c'è il mito la leggenda di tutti questi corridori che allora con dei mezzi che saprebbe raccontare solo il Pavarino e che insomma con le strade le condizioni che c'erano poi alla fine della fiera erano molto pane salame quindi insomma molto diverso dal ciclismo di oggi ma anche fino a parecchi anni fa dove praticamente si stava ancora sul discorso della nutrizione dello zucchero di queste cose però allora si sentivano delle cose veramente particolari anche insomma divertenti degli aneddoti certo sì che questi saranno nel prossimo libro esatto no no non sto scherzando adesso abbiamo in mente di fare un'altra pubblicazione andando un po' a sentire questi personaggi estrofessionisti e che cosa e non per raccontare la storia no come c'è scritto qui poi dietro le quinte come si usa dire di queste cose particolari ad esempio l'arrivo a Cadrezzate non perché Cadrezzate più belle degli altri perché Cadrezzate ha tirato fuori il soldi e per due anni la gara è arrivata lì e ha vinto tutte e due le volte tutte e due le volte Saroni ad esempio Saroni racconta che nella sua prima trevalli nel 1977 nel finale c'era la salita di Molina ce l'avete presente non in Molina Molina di Barasso a voi non la fate perché è troppo in piedi vabbè comunque è una bella una bella salita poi uscivano sulla strada che va al sasso di Gavirate e lui si è trovato in fuga con due corridori della Samson che era la squadra di Moser quindi naturalmente non è che collaborassero molto lui era il primo anno da professionista Saroni è del 57 compie gli anni a settembre la gara non aveva ancora 20 anni la gara è in agosto c'era c'era una quel giorno lì una pioggia incredibile quindi la riva era prevista in pista invece li fecero arrivare sulla pista di atletica e quando si arriva in pista si fanno due giri lui aveva visto nel primo giro che c'era una gran pozzanghera a 100 metri dall'arrivo quindi mi dice che quando lui è arrivato per far lavorata ha puntato questa pozzanghera poi si è spostato l'evitare gli altri due sono entrati hanno rallentato un po' e lui è andato per dire ecco è stata una giornata per lui memorabile lui con Gianni Moto sono quelli che hanno vinto più tre valli i varesini 4 vittorie a testa però Saroni dice io sono il record perché ho anche un secondo posto senti un evento come questo che prende la città promozione del territorio eccetera eccetera quanto fa da traino quanto resta quanto ha quanto fa da diciamo da da supporto cosa ci guadagnano ripeto non parlo di soldi parlo le società varesine zero benissimo no cioè questo è un evento no è come il festival di Sanremo non è che dopo Sanremo cantano tutti e qui purtroppo io da un po' di tempo dico che provincia di Varese il ciclismo è un ciclismo vecchio nel senso senza offendere nessuno fatto da gente adulta perché nel negozio da Roberto Parvarini a Calcinate via Vespucci dove è Roberto sono 20 euro per la promozione se entrano 10 persone se entra un ragazzo penso sia tanto vero Roby ecco questo questo vi dà l'idea vi dà l'idea del ciclismo attuale la categoria esordienti che è riservata io parlo di ciclismo su strada riservata ai ragazzi di 13 e 14 anni in tutta la provincia ha circa 35 tesserati tesserati quindi vuol dire già che corrono sono 30 che dopo tre mesi altri tre o quattro mollano quindi quindi è anche il discorso perché attualmente abbiamo un professionista solo vero ecco per quello che il ciclismo da un po' di anni è è in crisi è in crisi le motivazioni le sappiamo tutti prima c'era il doping che faceva cattiva pubblicità adesso la pericolosità delle strade perché è innegabile anche voi che andate in bicicletta no su determinate strade si fa fatica si fa fatica andare o è pericoloso quindi ragion di più mandare un ragazzino specialmente un genitore se deve mandare non appassionato di ciclismo se deve mandare un ragazzino sulla strada del lago da Gavirata Varese già ci pensa perlomeno sta prendendo un po' il fuoristrada la mountain bike giovanile perché hanno creato dei percorsi come a Quasso come a Laveno come a Gorla dei percorsi che sono una sorta di palestra dei percorsi chiudi dove vanno lì girano ci sono gli istruttori e quant'altro però il ciclismo su strada giovanile è in un momento avarese abbastanza abbastanza di crisi per quello che ti dico queste grosse manifestazioni sono fine a se stesse nel senso sono più come promozione della zona e di varie e quant'altro ma non tanto promozione ciclistica perché anche la società ciclistica Alfredo Binna in quel contesto dei 3 o 4 giorni della Trevalli difficilmente coinvolge i ragazzini preferisce coinvolgere gli amatori i master perché è gente che poi viene qui soggiorna e quant'altro c'è questo a gran fondo c'è la gravele e quant'altro il ciclismo soprattutto quello in bianco e nero ma poi anche quello dei primi anni a colori è stato molto raccontato c'erano grandi giornalisti che raccontavano storie che seguivano il giro uno su tutti i zavoli a bordo di improbabili moto per nulla adattate ma insomma si dovevano attaccare in qualche maniera però raccontavano storie raccontavano la maglia nera raccontavano la caduta raccontavano quanto manca quel tipo di racconto lo dico perché ancora oggi ad esempio tornando sul discorso della Trevalli Varesine perché qui perché là e poi nessuno si chiede come mai il Tour de France parte dalla Toscana come mai il Giro d'Italia parte dal Belgio quindi si fanno le pulce alle Trevalli e non si va a vedere quelle grandi corse che fanno esattamente la stessa cosa e con numeri e introiti molto più altri però la prealpina ha trovato te prima di te c'erano altri personaggi ma storicamente non c'è più nessuna redazione che dedica una persona al ciclismo un giornalista al ciclismo al di là di raccontare le corse ma quella di andare durante l'anno nel momento della preparazione a vedere se il tal corridore il tal direttore sportivo noi abbiamo dei direttori sportivi abbiamo un direttore sportivo che prendevamo sempre in giro per aver rifiutato la canina un anno qui nella nostra provincia dicendo che era troppo vecchia peccato che poi questa qui ha vinto per altri 25 anni da altre parti e lui dice ma ho lanciato un sacco di ragazze giochi ciclismo femminile un sacco di ragazzi mi rompi sempre le balle con la canina eh sì per forza perché è lì che devi andare a roppere le scatole però quanto manca il racconto del ciclismo ad esempio la Trevalli che non è mai stata raccontata una volta gli organizzatori della Trevalli si trovavano e il pensiero maggiore era ma quest'anno cosa facciamo la salita del Brinzi o la salita del Ferrera un anno hanno fatto 11 volte il Ferrera qualche corridore gli avrà sparato adesso invece come dicevo prima allora il percorso come lo facciamo chi ci dà i soldi gli alpini di Varese allora ma la sede è piccola fa niente è bellissimo proprio in centro cioè si seguono un po' i soldi ed è normale e questo è perché il tour parte quest'anno da Firenze poi fa Cesenatico non tanto Cesenatico per ricordare il Paltani quanto Cesenatico perché probabilmente la regione Emilia-Romagna avrà messo il discorso e sicuramente avranno un grosso riscontro trainato anche dal Pantani con tutto quello che ne segui per l'altro discorso vedi io per la Prea Alpina seguo il ciclismo al 1991 quindi allora dovevamo andare per forza a vedere le corse adesso tanti ragazzi che vengono dicono domenica c'è la corsa a Lonate Pozzolo si fa eh sì ma chi mi manda gli ordini di arrivo e la corsa ma chi mi manda guarda che dovresti andare no devo andare fino a Lonate Pozzolo cioè non c'è più la passione no difficile trovare qualcuno che che segua con la passione giornalistica perché se tu sei presente alla corsa al di là di parlare con l'Antonio con Luigi o con altri che ti possono magari dare delle altre indicazioni ti possono dare degli aneddoti ti possono dare delle anticipazioni lo vivi no lo vivi domenica ad esempio io poi leggo le cronache e vedo perché a volte io non sto vedendo di scrivere il meno possibile appunto per dare spazio ad altri domenica sono andato a vedere una corsa e questo ragazzo arriva adesso alza le braccia no così fa vedere la scritta come fanno i professionisti sbandava contro la transenna e c'era lì un signor e si è fatto anche male poi vado a leggere a lunedì nessuno ha detto questo vuol dire che non erano lì capisci perché la notizia era più quella di questo che arriva e fa tutte queste scene poi va non è capace di andare in bicicletta e va addosso alla transenna va bene ha vinto però se io fossi stato lì la notizia principale era quella no poi dopo io vado a leggere il giornale a lunedì e ha vinto Giannoli grandissimo braccia al cielo bene magari mi ha chiamato il genitore oh mi raccomando però guarda che gli ha dato tre minuti a tutti sì sì va bene ecco no e tre punti a uno ecco ha vinto la classifica a punti e la classifica a tempo ecco io vedo che adesso manca un po' manca un po' la passione è difficile trovare anche chi segue il ciclismo no perché uno dice si vengo perché vado a seguire da tre valli varesini oppure perché mi danno il pass per andare al giro d'italia no ecco no ammesso che che si riesca a avere però io dico sempre se uno viene a collaborare con un attestato giornalista deve andare al mese di luglio a seguire al pomeriggio a seguire una corsa a Sacconago che non so neanche dove è però ecco capito proprio il dei bambini dei 7 ai 12 anni dove ci sono i genitori che danno fuori di testa e nel senso buono e no e così purtroppo purtroppo la passione non c'è più e non ci sono più neanche questi grandi giornalisti tutto sport adesso è stata una settimana al giro d'italia tutto sport non ha un giornalista a seguito del giro d'italia cioè tutto sport non il giornale luce no con tutto il rispetto al giornale luce che non c'è più anzi magari il giornale luce ce l'ha perché il giornalista del giornale luce è un appassionato e va a sue spese e va a sue spese capisci tutto sport non hanno inviato la gazzetta dello sport organizzatore del giro d'italia prima aveva una parte della sala stampa riservata erano 10 o 12 giornalisti e facevano un grande lavoro c'era quelli che facevano la crona quello che fa l'intervista quello che faceva i pezzi di colore adesso sono in tre e gli altri lavorano dalla sede centrale eurosport eurosport commentano guardando la televisione come lo facciamo noi a casa no e dopo ogni tanto per forza dicono magari delle cose anche in esatte perché non essendo sul posto non riesci ma questo è perché non li mandano no e per questo che non c'è capisco che sono costi o che cosa però alla fine scade anche le prodotte di questi grandi giornalisti non ce n'è più allora vi racconto un aneddoto di una giornalista varesina visto che parliamo bene dei giornalisti no è la verità no 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 dico appunto io ripeto grazie a Sergio per un po' di anni c'era la presentazione della Trevalli allora la seguivo un po' perché lavoravo anch'io in una televisione un po' perché comunque ci si trovava con Sergio lo seguivamo eccetera eccetera allora siamo arrivati a Luino e insomma diciamo la giornalista locale punto di riferimento ci ha fatto un po' capire che eravamo graditi sì graditi no perché era lei che doveva fare le domande ai protagonisti Sergio scriveva tutti i giorni di quello quindi non era un problema io potevo cavarmela lo stesso allora abbiamo lasciato praticamente spazio alla giornalista allora la prima domanda è stata a proposito di Trevalli Varesini la prima domanda al buon Renzo Aldani è stata Renzo Aldani presidente della ciclistica Binda mi dica un po' ma questa tappa è quale delle Trevalli Varesini e lì ci siamo l'Oldani è rimasto un po' un po' perché aveva già fatto l'aperitivo forse era un po' così e allora ha fermato tutto e ha detto che forse era meglio ricominciare l'intervista e questo è un po' ecco no questo è un po' è quello che dicevo io un po' dell'informazione manca proprio la passione del racconto manca anche la passione di dire vado a vedere questa cosa mi documento un attimo chiedo e mi informo ecco ed è per questo che poi si fa fatica durante l'anno a scrivere anche di queste cose perché ci sono talmente tanti eventi ma sono tutti la richiesta la cronaca la classifica e un'altra cosa che il ciclismo fa fatica è proprio un discorso organizzativo secondo me rispetto a come è andato avanti il tempo cioè vai a una gara di giovanili per le classifiche fa una gran fatica anche sul posto averle e a parte noi che abbiamo un giornalista riservato per la nostra cronoscalata in diretta che non molla un attimo e fino alle 11 di sera ti scrive e ti telefona però davvero purtroppo con tutto quello che la parola costi ha influito tanto su questa cosa e poi direi che ripeto queste cose sono cose che restano sicuramente sono cose che hanno rischiato comunque di andare perse tante testimonianze ma tante fotografie tra l'altro al di là di quelle che avete visto che magari si capiscono un po' male ma ci sono delle foto d'epoca che sono veramente belle quindi insomma è davvero stato un gran lavoro quindi bravo Sergio bravo Luigi e via andiamo tra l'altro grazie a tutti tra l'altro proprio proprio in questi giorni e mi ha fatto piacere che la Binda facendo la brochure dell'anno di quest'anno della Trevalli Valesine vuole fare una brochure un po' diversa dal solito naturalmente con tutte le pubblicità dando spazio un po' alla storia della Trevalli e un po' al racconto di determinate edizioni quindi per creare una sorta di piccolo volume che poi resta vi ringrazio ancora dell'ospitalità noi ti ringraziamo perché si è parlato di storia storia del ciclismo in questo caso però gli alpini vivono la storia della nostra nazione e noi come gruppo alpini i Varese viviamo la storia del nostro territorio per cui devi vedere delle foto comunque che parlano della nostra zona del nostro vivere dei nostri vecchi perché comunque io mi rivolgo sempre quando entrai qui come nuovo iscritto al gruppo alpini di Varese il tavolo proprio dove stasera avete fatto la presentazione era un altro tavolo ma la posizione era questa era chiamato il tavolo dei nostri senatori qui c'erano proprio tutti i vecchi reduci di guerra tutte persone che probabilmente in queste foto così anziane hanno sicuramente partecipato applaudito hanno comunque sempre tenuto alto l'onore del nostro territorio per cui per noi venire in un libro che parla della storia del ciclismo ma comunque della nostra zona per noi è un grande vanto un piacere come abbiamo detto sin dall'inizio l'amicizia che c'è con te con Roberto oramai è abbastanza anche se non è nata all'epoca delle prime tre valli ma è nata è nata subito in maniera forte in maniera comunque pregnante e è nata anche per scherzo la ciclo scalata Varese Varese tre croci che è un evento qualsiasi penso all'interno di tutti gli eventi sportivi della città però per noi rappresenta tanto perché comunque quelle cento e passa persone che dedicano una mattina che sia di sabato o di domenica quando riusciamo a farla per venire a fare una fatica in mane perché comunque nonostante Mercia abbia detto quando comincia la salita io vedo quando arrivano le persone che vengono al campo dei fiori li vedo abbastanza trafelati tolto quelli che magari si sono già dopati prima arrivano su non si fermano neanche tornano giù per rifarlo una seconda volta questi qua sono veramente però è bello anche questo il piacere di vedere comunque e spiace pensare tu dicevi che purtroppo nella nostra realtà sono sparite io vengo sono nato a Bregazzana e ricordo che scendendo da Bregazzana c'era la Fictiliarum che era a Fogliaro c'era l'US Sant'Ambrogio nel giro di 200 metri c'erano due società sportive poi importanti sì importanti no però però c'erano e c'erano anche tante gare di tanti ragazzini però giustamente come tu hai detto oggi andare sulle nostre strade in bicicletta è difficilissimo infatti io che adesso abito nella zona di Malpensa forse lì ce n'è qualcuna di più di società vedo qualche ragazzino in giro e quando li vedo in giro da soli il primo pensiero che faccio nonostante dico ma guarda questi ragazzini così giovani in bicicletta in giro su queste strade col pericolo che c'è perché oggi veramente io la vivo da motociclista perché ho l'appassione della motocicletta e quindi ti rendi conto del rischio che veramente oggi c'è per una famiglia è più facile mandare in un campo da calcio o a far canottaggio che canottaggio è uno di quelle è in un momento di espansione vero? Noi felicissimi di avere intanto portato qui diverse persone anche questa volta perché lo scopo nostro è proprio questo è di presentare intanto la nostra associazione dei cittadini tant'è che la scelta di non fare solo tematiche di associazione d'arma è stata proprio perché l'idea era di portare all'interno della nostra sede facce che non l'hanno mai neanche vista magari passano via vedono il nostro logo ma immaginano che sia proprio un luogo solo ed esclusivo per gli alpini no ti lasciamo un ricordo della serata grazie e dopodiché grazie a me sicuramente ci saranno altre bellissime occasioni grazie a tutti